Un parco Tafuro più bello, pulito e vivibile. Con questo motto il Comitato dei residenti We Love Parco Tafuro, insieme al gruppo Scout, Lecce 5 e FIAB, hanno dato vita ad una particolare iniziativa, ovvero ripulire il parco dai rifiuti abbandonati per renderlo così un luogo migliore. Un primo passo, pensato dal Comitato, per creare partecipazione e coinvolgimento di chi abita in zona, per rendere più fruibile questo angolo della città, auspicando poi un intervento da parte del Comune. La prima iniziativa, che ha avuto un buon successo, speriamo di poterne organizzare, che sia la prima di una lunga serie. Io risiedo proprio qui dietro, in via Puccini, quindi sono un fruitore del parco come tanta altra gente. Il parco è molto frequentato, insomma, da bambini, da anziani. A volte, ancora oggi, è oggetto di vandalizzazione, con cestini rotti, panchine rotte, abbandono anche di rifiuti, purtroppo. E quindi, insomma, auspichiamo che col tempo, piano piano, possa essere anche il parco Tafuro riqualificato. Oggi voi partecipate a questa iniziativa, con che spirito? Sono accorti che questo territorio, che vivono, non sempre adatto alle loro necessità, non sempre bello come lo vorrebbero, e hanno deciso di fare un'azione per renderlo più bello, più accogliente. Per noi è una cosa molto bella, perché comunque è molto importante. È una bella cosa pulire tutti questi parchi dall'inquiramento, perché almeno è più pulito, vedi che è più pulito, invece con tutte queste cartacce vedi che è brutto.